Siamo nella chiesa di Santa Lucella, esattamente nel centro storico di Napoli, tra due strade famosissime, via San Gregorio Armeno e via San Viaggio dei Librai, Spacca Napoli. Noi giovani dell'associazione Respiriamo Arte abbiamo deciso di adottare questo luogo, che fu sede dell'antica corporazione dei Pipermieri, per portare avanti un progetto di valorizzazione artistico-culturale e riqualificazione territoriale. Questa raccolta fondi è destinata a rendere accessibili e fruibili i vari abiti della chiesa, ma soprattutto quelli sotterranei, dove si conserva qualcosa di unico e particolare, il teschio dalle orecchie mummificate. Un tramite tra il mondo dei vivi e dei morti, avendo le orecchie, semplicemente poteva ascoltare e riportare le preghiere direttamente nell'aldilà, esaudendo le grazie dei napoletani. Perché donare per questo progetto? Perché il nostro progetto è un progetto che va al di là di un semplice recupero di una chiesa. Un progetto culturale con vocazione sociale che mira ad un qualcosa di molto più grande, e cioè la riscoperta della memoria della nostra città, attraverso una delle sue forze maggiori, i giovani. E quindi, a proposito di miracoli, mi verrebbe da dire chi ha orecchio in tenda. Un progetto culturale con vocazione sociale che va al di là di un semplice recupero di una chiesa. Un progetto culturale con vocazione sociale che va al di là di un semplice recupero di una chiesa. Grazie.